Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Il 20 settembre prossimo Sofia Loren compirà 90 anni e la regione Campania ha deciso di renderle omaggio. Nonostante non sia nata a Napoli, l'attrice ha sempre avuto un forte legame con la città ai piedi del Vesuvio, tanto da stabilire la sua residenza a Pozzuoli e ricevere la cittadinanza onoraria nel 2016. Con la delibera 51 del 15 luglio 2024, la regione Campania ha annunciato di destinare fino a 450.000 euro per finanziare una serie di eventi dedicati a Sofia Loren. Celebrazioni, pubblicazioni e rassegne si svolgeranno in varie città del mondo in occasione del novantesimo compleanno dell'attrice. La delibera della regione Campania sottolinea che il raggiungimento dei 90 anni da parte di Sofia Loren, la diva italiana più famosa al mondo e simbolo internazionale del territorio campano, sarà un'occasione per celebrare il talento, la bellezza e la professionalità nel settore audiovisivo, culturale e turistico della regione. Il progetto in onore di Sofia Loren sarà realizzato da una coalizione composta dalla Direzione Generale per le Politiche Culturali e Turismo, dalla Fondazione Campania dei Festival e dalla Fondazione Film Commission.